La grande box arriva a Vallefoglia mettendo in palio per la prima volta nelle marche un titolo internazionale di pugilato femminile. Domenica 21 luglio in piazza Rossini nella frazione di Bottega saranno Nadia Flali e Mayuba Uptil a sfidarsi per il titolo del Mediterraneo WC femminile categoria superleggeri. Un grande appuntamento sportivo presentato nel nuovo municipio di Vallefoglia. Il pugilato a livello internazionale femminile, prima volta nella nostra provincia quindi un evento di per sé molto molto importante. Lo sport per il territorio è importante, sono tante le discipline sportive radicate, anche il luogo scelto è un luogo importante, la frazione di Bottega, la pista polivalente dove si è sempre praticato sport di tutti i tipi, dalla pallavolo, il calcetto eccetera. Non più di qualche settimana fa eravamo lì con le giovane promesse, il ciclismo, una gara insomma a livello nazionale che ha riscosso un discreto successo. Ad organizzare l'evento pugilistico Giuseppe Uguccioni della SEP e Gio Bulemi della palestra Miami. Sono pugili una specialmente, la ragazza che abbiamo sentito prima in Nadia Flali. Ha buone prospettive insomma per fare, soprattutto di origine anche lei marocchina però marchigiana. Quindi sono ragazze combattive insomma che dovrebbero portare un incontro di una certa validità tecnica anche spettacolare. La sfida internazionale al femminile sarà il momento conclusivo di una ricca serata che inizierà alle 20 con sei match non professionistici IBA. Seguiranno due incontri di pesi superleggeri, uno maschile con Davide Cacchiarelli che sfida Stefano Failla nei pesi massimi leggeri 4x3 e un incontro femminile di pesi superleggeri 8x2 con Ereca Montalbini e Ima Mancuso. Per noi è anche un ritorno negli anni 70 quando qui era forte la passione per il pugilato e poi c'è da anche questa dimensione internazionale sulla quale noi stiamo lavorando sempre di più. Diciamo che c'è ormai un interesse, siamo anche un po' incuriositi, a fare eventi in questa parte del territorio del centro Italia che è importante perché noi qui abbiamo imprese leader a livello mondiale e quindi ci caratterizza. Vogliamo sempre più caratterizzarci anche anche lo sport. Non è un caso che stiamo spendendo quasi due milioni e mezzo per adeguare il palazzetto dello sport per eventi sportivi di carattere internazionale. Abbiamo una squadra di serie A femminile, il pallavolo, e stiamo cercando di dare sempre più una dimensione internazionale anche attraverso le discipline sportive.